Lunedì, l'attore francese Gérard Depardieu è stato fermato dalla polizia di Parigi per essere interrogato su accuse di violenza sessuale e molestie. Tuttavia, lo stato di fermo è stato revocato e Depardieu è stato rilasciato nel tardo pomeriggio, negando tutte le accuse. Le denunce provengono da due donne, una scenografa per fatti avvenuti nel 2021 e un ex assistente per eventi del 2014. Entrambe sostengono di essere state ripetutamente insultate e palpeggiate da Depardieu sul set di vari film. Questi eventi si aggiungono ad altre accuse che hanno circondato l'attore, incluso un'indagine per stupro del 2020 e altre denunce per violenza sessuale in Spagna. Nonostante le accuse, Depardieu ha sempre negato ogni addebito, scrivendo una lettera aperta sulle Figaro nel 2023 e ricevendo il sostegno di diversi colleghi nel mondo dello spettacolo. In particolare, più di 50 personalità famose hanno sottolineato la presunzione d'innocenza e hanno invocato per lui la possibilità di continuare a lavorare nonostante le controversie. Questi eventi riflettono una divisione nell'opinione pubblica sulla questione, con alcuni che sostengono la necessità di indagini approfondite e altri che difendono la reputazione dell'attore. La vicenda continua a suscitare interesse e dibattito, sia in Francia che all'estero, alimentando la discussione sulle accuse di abuso nell'industria cinematografica.